Quando mi è stato detto che il tema del festival di quest'anno era sul rapporto tra preghiera e tempo, mi è sembrato quasi naturale proporre una riflessione su un autore che è di decisiva importanza non solo per la religiosità contemporanea ma per tutta la cultura, lo spirito contemporaneo, filosofia e teologia. Cioè Soren Kierkegaard, che vive, come molti di voi sapranno, e costoro mi scuseranno se qualche volta sono un po' scolastico, ma credo che sia utile anche dare alcune informazioni sulle cose che andrò dicendo, che vive un tempo di fuoco e lo vive come vedremo integralmente. Non lo vive soltanto dedicandosi ai suoi studi teologici e ai suoi conflitti che questi comportavano, ma lo vive anche con riflessioni teologico-politiche che a mio avviso sono di particolare rilievo e che sono state studiate, analizzate meno di altre parti della sua opera. Quindi in questa lezione cercherò anche di affrontare questo aspetto poco noto di Kierkegaard, i suoi appunti, le sue riflessioni contenute nei diari e non solo sulla politica contemporanea, credo che sarebbe molto interessante affrontare anche questo tema. Ma l'ora, l'ora in rapporto a quell'altra categoria, basta fotografie, please, mi dà un fastidio tremendo mentre parlo che ci sia gente intorno che mi fotografa. No, niente, va bene. Basta. Stop. La categoria dell'ora si riferisce e va studiata insieme a un'altra categoria che è quella fondamentale della filosofia-teologia di Kierkegaard, che è quella del singolo. Il singolo. Categoria che non vale soltanto sul piano religioso. teologico. Per Kierkegaard il singolo è la categoria centrale del cristianesimo. L'appello, la chiamata cristiana è rivolta al singolo. Ma è anche fondamentale questa categoria nella posizione filosofica che Kierkegaard assume rispetto alle grandi tendenze, alle grandi correnti della sua epoca. E quali sono queste grandi correnti e tendenze? Beh, la filosofia hegeliana e i successori, per così dire, di Hegel. Quelli che continuano quella filosofia sostanzialmente la continuano anche se molti di loro in una chiave polemica. Basta citare il nome di Marx. Famoso, la posizione di Marx e di Engels a questo proposito, no? La forma logica dialettica hegeliana è insuperabile, quindi dal punto di vista strettamente logico-filosofico essi ritengono di proseguire la linea hegeliana, ma i contenuti di questa logica, cioè l'aspetto, come dire, materiale, appunto materialismo storico, di questa logica, di questa dialettica va radicalmente criticato e rivisto. Ma dal punto di vista filosofico, la dialettica hegeliana rimane per Marx, come per tanti altri, insuperabile. Proprio qui, invece, la polemica di Kierkegaard. Una polemica, quindi, radicale contro le tendenze dominanti della sua epoca. La dialettica è la costruzione, per così dire, del passaggio logico tra ciò che è finito, particolare, la dimensione del particolare e del finito all'infinito e all'assoluto, no? La dialettica, la filosofia dialettica pretende, si muove, secondo questa istanza, no? Noi abbiamo, è possibile articolare un discorso che, a partire dal finito, a partire dal particolare, a partire dalla coscienza finita, giunga all'universale e all'assoluto. Attraverso un movimento di tesi, antitesi e sintesi. Come dice Hegel, la contraddizione è l'elemento vivente. La tesi, che viene contraddetta, che genera la sua antitesi. L'antitesi non è qualcosa di astrettamente separato dalla tesi. Si genera dalla tesi stessa. Cioè la tesi stessa ha in sé ciò che la contraddice e, infine, questa relazione tra tesi e antitesi generano una sintesi superiore. Questo movimento, appunto, accorda, armonizza, finito e infinito. E si produce nel concetto, cum capio, concetto, mettere insieme, si produce nel concetto l'universale. Quindi il finito, il particolare, è, come si dice, sussunto, viene assunto nell'universale, si risolve nell'universale senza perdere la propria specificità, ma riconoscendosi, appunto, nient'altro che come un individuo dell'universale, una parte dell'universale, del tutto. La posizione di Kierkegaard, ripeto, rispetto a tutte le altre del periodo, è assolutamente autonoma da questo punto di vista e del tutto polemica. Nel senso che la categoria sfondamentale sua, quella del singolo, insiste sulla impossibilità di produrre dal finito l'infinito. Il particolare, dice Kierkegaard, non diviene universale. Il negativo non si riduce a un motore e a una funzione del positivo. Tra finito e infinito c'è l'abisso. Nessun movimento del concetto, quindi nessuna dialettica, nessuna filosofia, può mediare tra il, diciamolo in modo che a questo punto tutti comprendiamo, nessun movimento concettuale, nessun discorso può mediare tra il divino e l'umano. Quello di Hegel è un inganno, è un inganno o una illusione. a volte il tono è anche più polemico, più pesante. Si tratta di una ciarlataneria tra finito e infinito. Il discorso, la nostra ragione, il nostro, la nostra filosofia, le nostre dialettiche non possono produrre alcuna accordo tra finito e infinito. Che cosa fa Hegel e tutti i suoi discepoli? Che cosa fanno quando pretendono di accordare nel concetto finito e infinito, divino e umano? Cosa fanno? Hanno questo, rendono vano, dice Kierkegaard, quel che Dio ha fatto. Lo rendono vano. questo è l'atto d'accusa radicale che Kierkegaard muove alla filosofia. A quella filosofia che sembrava a quei tempi, ma non è che sia tanto diverso ora, che sembrava a quei tempi la filosofia conclusiva. Il grande sistema di Hegel. Che cosa fa questo sistema? Rende vano quello che Dio ha fatto. Perché quello che Dio ha fatto, questo sistema dice che lo fa lui, che lo fa il sistema, che è del tutto razionale, che è nient'altro che un movimento della nostra ragione. È nel concetto che si incarna l'unità tra umano e divino. Ecco allora per Kierkegaard la pericolosità straordinaria dell'idealismo, del grande idealismo tedesco classico, no? È una sotto le mentite spoglie, no? In Hegel di un accordo con la religione, eccetera. Hegel non si professa mai come i suoi discepoli da Feuerbach a Marx, eccetera, atei. Mai. anzi, la religione viene assolutamente anch'essa sussunta in questa dialettica, no? Certo, la religione, cosa fa la religione? Non fa altro che esprimere in modo rappresentativo, come dire, per immagini, mitologicamente anche in certo modo, quello che la ragione sa. perché la ragione sa, conosce l'accordo tra finito e infinito, tra divino e umano. La stessa cosa dice la religione, dice Hegel, il contenuto della religione cristiana e il contenuto della filosofia è identico, è lo stesso. Solo che la filosofia lo esprime attraverso il concetto e la religione attraverso rappresentazioni sensibili. ma non c'è nessuna differenza dal punto di vista del contenuto. Chi è che lo dice? No, qui tu poni una differenza radicale, tu, sotto mentite spoglie, dichiari guerra al cristianesimo. Perché? Perché pretendi che la tua filosofia renda vano quello che Dio ha fatto e che fa solo Dio cioè l'accordo tra umano e divino è solo di Dio, non è della tua ragione, Hegel, non è del tuo concetto. Hegel e la dialettica rendono vano l'evento, l'incarnazione del Logos. non è più un evento per la filosofia e l'incarnazione del Logos, è un concetto da sempre come il teorema di Pitagora. È qualcosa che da sempre non è un evento, non è l'irrompere del divino in quel momento, in quel luogo, nella storia. la singolarità ecco di nuovo dell'evento scompare. È qualcosa che è da sempre perché l'accordo tra divino e umano è sempre e il concetto rivela il suo essere sempre. L'evento, la singolarità dell'evento scompare, si vanifica. E quindi per Kierkegaard è una lotta davvero apocalittica. Cioè anche da questo punto di vista la posizione di Kierkegaard è veramente esemplare e occorre rifletterci perché per Kierkegaard l'out-out tra cristianesimo e filosofia questa filosofia non la filosofia questa filosofia Hegel l'egelismo con tutte le sue conseguenze epocali epocali no? Basterebbe pensare al marxismo con tutte le sue conseguenze è una dichiarazione di guerra al cristianesimo sotto mentite spoglie per un periodo tra 30 e 48 quelle mentite spoglie cadono e la guerra si fa palese e occorre però accettarla e invece la posizione hegeliana è di grandissima pericolosità direbbe Kierkegaard e dice Kierkegaard di grandissima pericolosità perché non è Hegel la dialettica hegeliana esplicita a questo punto è tutto implicita il suo render vano il cristianesimo l'evento cristiano tutto implicito perché appunto invece ciò che Hegel sottolina diciamo tra virgolette per il popolo è che tra religione e fede non c'è nessuna contraddizione che il contenuto è assolutamente identico e quindi appunto si presenta ecco il timbro apocalittico questa anticristicità radicale dell'egelismo si presenta come diremmo simia dei simia dei all'aspetto al volto di lui dice vedi il mio logos non è tutto sommato altro che il logos no dice Kierkegaard non è assolutamente non c'è nessuna analogia il modo in cui tutti assumi il volto del logos è esattamente il modo in cui l'anticristo assume il volto di Cristo quindi una un out out per citare il famoso libro di Kierkegaard un out out un out out tra il sistema il generale che nel concetto appunto abbraccia invece il singolo la singolarità dell'evento il singolo che è chiamato nella sua storia a un certo in una certa ora il singolo in una certa ora della sua storia è chiamato a rompere questa storia l'evento e la singolarità dell'evento il continuum storico si spezza si rompe nell'ora nell'ora in cui il singolo è chiamato nell'ora in cui nel singolo si rapportano e si accordano divino umano finito infinito ma non per forza del singolo ma perché il singolo è chiamato l'evento si ripete l'evento cristiano si ripete per ogni singolo nella sua ora se questo singolo è chiamato ma solo Dio può l'accordo tra umano e divino solo Dio può l'accordo tra umano e divino nell'ora del singolo e quindi questo accordo è possibile soltanto nell'atto d'amore e di fede e qual è quindi il contenuto ultimo di questo atto anche qui la posizione di Kierkegaard è radicale no? è in totale polemica con la con quella filosofia che anche per Kierkegaard era la filosofia ultima Hegel dopodiché non c'è più filosofia come noi la intendiamo come si intendeva meglio c'è un pensiero eventualmente un pensiero che medita anche quello che stiamo dicendo a proposito del comportamento religioso dell'esperienza religiosa che cos'è che cos'è che avviene quando finito infinito nell'ora del singolo si accordano cos'è che avviene e il singolo crede cos'è che avviene avviene l'impossibile l'impossibile o meglio nell'atto di fede io credo che ciò che è per me impossibile sia cioè l'accordo tra umano e divino sia possibile a Dio io credo cioè che l'impossibile sia possibile a Dio ma il contenuto dell'atto di fede è l'impossibile ecco mi accade qualcosa di impossibile possibile a Dio ma impossibile nell'uomo per l'uomo per la dimensione per la finitezza umana qui la contraddizione con l'eghelismo e con tutta la filosofia idealistica è ancora più radicale perché tutta la filosofia idealistica ragiona esattamente in questi termini che alla ragione umana non è dato impossibile è fondamentale questo per intendere anche la potenza della filosofia idealistica da Hegel fino al nostro gentile il nostro cervello è il centro il centro di una circonferenza a raggio infinito infinito ma ma mica conosciamo tutti ma tutto è per noi conoscibile certo che c'è l'ignoto ma noi trattiamo l'ignoto come ciò che è conoscibile non c'è l'ignoto Hegel insiste continuamente su questo non c'è ignoto non c'è non c'è mistero che mistero la Trinità è un mistero ma vieni qua te la spiego dice Hegel continuamente non c'è nessun mistero in Dio ecco dimostrazione palese che tu rendi vano appunto che tu rendi vano l'evento che tu rendi vano quel che Dio ha fatto quindi l'atto di fede si concentra proprio sulla dimensione su questa categoria dell'impossibile che non può trovare spazio all'interno di una filosofia idealistica e che invece è la categoria di quell'anima gemella per certi versi di Kierkegaard che sarà una generazione dopo Dostoevsky e tra Dostoevsky e Kierkegaard si intrecciano una serie di correnti di pensieri di autori nel nostro novecento diventano punti di riferimento comuni di tanti autori contemporanei i due ovviamente e Dostoevsky non aveva nessuna conoscenza di Kierkegaard ripeto questo rapporto umano divino appunto che non è disponibile che non si può disporre dialetticamente accade accade nell'istante nell'ora che è categoria essenziale e che è del tutto coerente a quella del singolo alla singolarità corrisponde l'ora allora la singolarità diciamola insieme sia singolarità singolo che ora è l'eccezione accade qualcosa nell'eccezione l'atto di fede è eccezionale è una situazione di eccezione che non può essere in alcun modo ricompresa all'interno di un discorso di una dialettica che non può essere in alcun modo concettualizzata ma che cos'è importante che questa categoria singolo ora spezza il continuo del tempo spezza il continuo del divenire e qui sarebbe bello avere il tempo sarebbe interessante vedere come da questo punto di vista vi sia uno stretto rapporto consapevole di alcuni autori tra fine ottocento primi novecento e Kierkegaard autori anche che si professano marxisti ma che riprendono spesso del tutto esplicitamente da Kierkegaard proprio elementi di questo genere nella polemica contro le socialdemocrazie nella polemica contro le filosofie o le politiche progressiste la categoria dell'eccezione il rivoluzionario è colui che fa saltare il continuum temporale è colui che vede il momento propizio il Kairos si direbbe in greco l'ora e afferra l'ora non se la fa perdere non se la fa sfuggire non è come il socialdemocratico il riformista che procede piano piano step by step eccetera eccetera quello non vedrà mai l'ora della rivoluzione non afferrerà mai il tempo della eccezione il Benjamin giovani il blocco eccetera eccetera sono pieni di questi elementi che derivano da Kierkegaard come dire ateizzandoli ateizzandoli ma questo per dire anche l'importanza generale di questa di questo filosofo teologo e di queste riflessioni quindi appunto il la il il singolo chiamato nell'ora spezza il continuum del tempo è un'eccezione l'atto di fede è un'eccezione e non può appartenere in alcun modo appunto al tempo del divenire al tempo della finitezza alla logica di relazioni che è propria del finito è un una decisione della tua vita del tuo tempo una decisione qualcosa irrompe nella temporalità la spezza quindi si potrebbe dire non ha nulla a che fare con la esperienza esperienza è un termine che indica un cammino comunque sia siamo qui per ciascuno di noi per ogni singolo può capitare così no ha a che fare con l'esperienza e con quell'esperienza per Kierkegaard desunta in toto da da Lutero e dalla teologia della riforma ma che deriva da Paolo il momento in cui il momento che non è un momento movimento quell'istante che è l'ora in cui il singolo è chiamato presuppone un'esperienza presuppone un cammino anche se questa esperienza e questo cammino non cancella per nulla l'eccezionalità dell'evento e cos'è e da che cosa è contrassegnato questo cammino esattamente come imparo nella lettera ai romani dalla disperazione dall'angoscia dall'angst in qualche modo si potrebbe dire ma uso il condizionale si potrebbe dire no che soltanto coloro che sono giunti a disperare del finito a disperare del finito e quindi delle proprie stesse forze delle proprie stesse potenze nel superare la propria condizione di miseria e di finitezza ricordate appunto lettera ai romani di Paolo soltanto quelli che sono giunti a disperare del proprio esserci finito possono soltanto per costoro può accadere l'ora può accadere l'evento è tutto appeso alla lettura di Paolo ai romani come poi sarà per quel grande teologo del novecento che deriva in grandissima misura da Kierkeld che è Karl Barth quando disperi quando l'angoscia appunto per la tua finitezza per non riuscire in alcun modo appunto a a compierti nella tua esperienza mondana a compierti nel tuo divenire a compierti nel tuo discorso quando avverti fino in fondo l'impotenza essere qualcosa di compiuto semplicemente appunto vivendo la tua il tuo esserci finito soltanto in quel momento può accadere l'evento che non ha nulla per nulla in niente l'infinita distanza tra noi e Dio assolutamente l'abisso come per Barth rimane l'abisso tra noi e il divino noi riconosciamo in quell'evento proprio l'abisso lo riconosciamo questo abisso riconosciamo quanto siamo abissalmente lontani da lui quanto lui sia altro Barth Kirchhoff tutto ripreso da Kirchhoff ma l'altro l'altro la potenza dell'altro supera supera eccezionalmente adialetticamente questa infinita distanza e noi abbiamo la coscienza che mai potremmo superare da noi l'impotenza del nostro esserci in altro in altro modo potremmo disporre questa esperienza esattamente nei termini noti in cui la dispone Kirchhoff com'è che si giunge a quel salto noi viviamo anzitutto la nostra vita la nostra esperienza eccetera e si svolgono in una in una dimensione lato senso estetica no? sentiamo percepiamo mettiamo in relazione in rapporto ciò che sentiamo ciò che percepiamo ma questa ci rappresentiamo ciò che vediamo ciò che sentiamo ciò che percepiamo ce ne produciamo delle immagini no? non viviamo così sì può accadere che questo che questa dimensione estetica giunga potremmo 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 esprimerla con una forma secondo me efficace questa dimensione estetica di Kierkegaard riferendoci a un altro grande polemico contro l'idealismo con Schopenhauer no? è in fondo la dimensione estetica di Kierkegaard è in fondo una volontà alla vita una volontà alla vita e alle cose che la vita ci offre alle cose che possiamo avere questa dimensione è una dimensione che può produrre al suo limite può produrre una sorta di nausea questo finito che continuamente si ripete in forme diverse questo finito di cui vogliamo continuamente godere in forme diverse questo questo progresso all'infinito da finito a finito all'infinito non può produrre una reazione certo può produrre una reazione può produrre angoscia può produrre meglio nausea da rappresentazione a rappresentazione e poi è un cattivo infinito è il cattivo infinito dell'indefinito progredire si può superare in una dimensione che è una dimensione etica no io non voglio continuare da cosa a cosa da finito a infinito io voglio trovare una legge in questo divenire voglio dar forma a questo divenire l'etica non è questo eh sì i diversi egoismi si 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 accasano si addomesticano in qualche modo cercano di convivere di coabitare allora è la famiglia allora è anche lo Stato è una dimensione etica non più semplicemente estetica cerco una legge cerco una forma che si imponga all'arbitrio che si imponga all'arbitrio che si imponga diciamo evangelicamente alla filopsichia all'amore di sé all'egoismo è un movimento importante questo importante questo in qualche modo qui Kierkegaard ripete a modo suo una sorta di dialettiche ghelliane insomma no dalla 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 coscienza finita alla dimensione propriamente etica statuale eccetera eccetera ma ecco l'out out di nuovo ecco l'out out di nuovo è possibile concludere qui l'etico è ancora nel tempo la dimensione etica è una dimensione che si svolge nel tempo come è lo Stato come è ogni comunità ma l'etico nell'etico il singolo è soltanto come parte dell'insieme come parte del generale integrato si potrebbe dire no al generale all'insieme al tutto non ha vita propria ma invece quell'appello quella chiamata è rivolta al singolo non è rivolta al generale e come la mettiamo il singolo non può essere semplicemente parte dell'intero non è parte dell'intero pensiamoci un po' nessuno di noi si sente semplicemente parte dell'intero anzi dice Kierkegaard addirittura una comunità universale sarà tale quando sarà formata soltanto da singoli da persone che sono del tutto coscienti della propria singolarità ma dov'è che appare radicalmente per Kierkegaard la singolarità del singolo la singolarità del singolo appare quando nell'ora il singolo è chiamato quella è la singolarità del singolo la possibilità impossibile del singolo di accordarsi non per sua forza ma per forza di quella chiamata al divino questa è la singolarità per eccellenza non vi è dubbio no? ma nell'universale nell'etico questa possibilità impossibile non è neppure prevista non è neppure contemplata non esiste perché il singolo conclude la sua storia venendo compreso nell'universale ma è possibile concludere questa storia comprendendolo nell'universale no? dice Kierkegaard perché? ma perché c'è Abramo c'è Abramo e Abramo non eccede totalmente l'etico è certo che lo eccede l'etico come fai a collocare in una dimensione etica uno che risponde alla chiamata e porta sul monte a uccidere suo figlio non ha nulla a che fare con l'etico se ha ragione l'etico non ha ragione Abramo ma Abramo è il singolo e la singolarità è quella appunto che risponde alla chiamata per cui il continuum temporale di cui l'etico fa parte come ancora di più l'estetico viene spezzato deciso Abramo uccide veramente suo figlio ma quel divino a cui nulla è impossibile a cui tutto è possibile glielo restituisce glielo restituisce elemento fondamentale questa restituzione impossibile al quadrato impossibile dal punto di vista delle possibilità umane l'evento impossibilità al quadrato nel discorso di Chircolo la restituzione la ripetizione o la restituzione il finito ci viene restituito il finito diventa un dono del Signore non è più per sé ma è per il Signore un dono del Signore tutto ciò che a quel punto dopo la nostra decisione rispetto all'etico e all'estetico ci siamo decisi come Abramo siamo decisi radicalmente e per sempre dall'etico all'estetico l'impossibile si ripete l'impossibile si ripete restituendoci il finito restituendoci il figlio restituendoci il finito nulla è passato e basta cioè Abramo ha ucciso il suo figlio è stato fatto consumato un mest no per il Signore non c'è nessun passato nel senso del consumato un mest perché anzi tutto ciò che prima ci sembrava di avere e una volta chiamati ne siamo stati in qualche modo spossessati avevo mio figlio me ne sono completamente spossessato l'ho riavuto a quel punto quel figlio è il figlio del Signore e lo vedo come tale lo vedo come un dono divino vi è un momento come dire di assoluta trascendenza questo è il movimento più importante è un momento di assoluta trascendenza l'abisso l'altro su cui si sofferma in particolare Barth ma non si sofferma abbastanza a mio avviso Barth sull'altro sul contromovimento che è del tutto logicamente collegato al primo sul secondo gradino dell'impossibilità quello più radicale non c'è nessuna cioè non è un movimento mistico quello di Kierkegaard per cui si giunge come dire a una ad una sorta di annullarsi nel divino no perché quando tu rispondi alla chiamata decidendoti dalla dimensione etico-estetica e perciò per la dimensione estetico-etica tu sei un colpevole tu sei uno che uccide il suo figlio in quello stesso momento tu hai il Signore ritorna tu non neghi la dimensione etico-estetica per la dimensione etico-estetica ti viene ritornata dal Signore e ti viene ritornata trasfigurata una sorta proprio trasfigurazione evangelica ti viene trasfigurata perché a quel punto la dimensione etica è per te divinizzata anche qui la polemica comunque che non è un prodotto della soggettività a questo punto la dimensione estetica ed etica non sono più un prodotto della tua soggettività sono ciò che il Signore ti ha restituito non sono un tuo possesso non sono ciò che hai ma ciò che credevi di avere ora lo hai perché lo hai dal Signore e ora solo lo hai e allora e allora soltanto quel tuo figlio è in qualche modo un tuo figlio eterno che non ti potrà mai più essere sottratto perché il Signore te l'ha dato e tutto ciò appunto avviene nell'ora l'ora della chiamata eccomi l'ora ma l'ora decisiva è l'ora in cui tu ti stacchi dall'etico e realizzi fino in fondo la tua singolarità in questo arrischio tremendo l'arrischio tremendo andare sul monte insieme ad Abramo a uccidere il figlio ma volevo questa è l'ora quindi questo è il singolo questa è l'ora nella loro drammatica connessione le categorie fondamentali nella loro drammatica connessione che esprimono nel loro insieme appunto questa esperienza religiosa piena di non semplicemente appunto un'esperienza religiosa sentimentalmente descritta ma piena di potenti succhi filosofici teologici che caratterizza questo autore decisivo per la contemporaneità ma questo autore è decisivo anche per alcune sue considerazioni politiche che io ritengo rilevantissime e sulle quali forse l'attenzione già lo dicevo non è stata sufficiente cioè vi è proprio una filosofia politica o una teologia politica in Kirchert sparsa qua e là non detta in modo quasi sistematico come nelle opere di Kirchert da Utauto a Timore e Tremore alla Malattia Mortale eccetera eccetera che sono proprio opere anche sistematiche nel loro e che ho cercato di vedere i diversi elementi nella loro connessione qui invece sono considerazioni sparse ma di grande rilievo intanto è evidente dalla categoria del singolo deriva che qualunque comunità o qualunque sistema politico economico che tenda consapevole o no a reprimere questa categoria e per Kirchert questo era in particolare la filosofia del diritto dello Stato di Hegel l'individuale il particolare ha valore soltanto quando si supera nell'universale in qualche modo negando se stesso ogni sistema che si muova secondo questa istanza è per Kirchert tirannia tirannia ogni sistema politico che escluda o tenda ad escludere l'eccezione rappresentata dal singolo che via via si apre a quell'impossibile possibile che abbiamo detto è tirannia tutti i sistemi che intendono porre l'etico come tutto sono tirannia perché? ma perché negano nei fatti il rapporto possibile impossibile dell'assoluto con il singolo diciamoli in modo più chiaro ancora è tirannia ogni regime politico che si basi su una sorta di religio civilis questa è la mia politica questa è la mia etica e queste sono religione religione religio civilis una religione che fa tutt'uno con l'ordinamento politico istituzionale giuridico eccetera della civitas qui la contrapposizione con gli hegeliani è radicale perché cosa diceva Feuerbach Feuerbach diceva la nuova religione è la politica e interpretava in modo del tutto coerente Hegel la nuova religione è la politica per Kierkegaard questa frase è proprio la frase dell'anticristo tra le due posizioni deve essere una inimicizia radicale una guerra civile proprio la guerra più cruenta la guerra tra fratelli e la scena che lui descrive da questo punto di vista ha davvero i toni dell'apocalisse no la religione del mondo contemporaneo è la politica è l'agire politico è usare di tutti i mezzi nella lotta politica per la conquista del potere quindi ogni visione dello Stato che tenda a contenere in sé estetica etica a sussumere in sé la singolarità e l'esperienza della singolarità nei termini che ho detto è figura anticristica ma per il cristiano dice Kierkegaard il pericolo di questa affermazione la nuova religione e la politica è enorme perché e allora lui va a vedere quali sono i termini chiave di questa politica contemporanea cioè della politica post-rivoluzionaria della politica successiva all'89 qual è l'idea fondamentale che muove questa politica l'uguaglianza lui dice l'uguaglianza ma come si fa a pensare politicamente il termine dell'uguaglianza siamo sicuri che è una idea politica quella dell'uguaglianza un'idea politica cioè un'idea mondana un'idea che riguarda appunto il divenire storico in questo in questo in questo mondo come si può perseguire l'uguaglianza ma non vedete che ciò che è legge del mondo è la differenza e la disuguaglianza come potete pensare di realizzare con mezzi umani l'uguaglianza tutta la natura opera disuguagliando e differenziando l'idea di uguaglianza è solo religiosa solo religiosa è possibile l'uguaglianza solo tra singoli chiamati solo lì è possibile l'uguaglianza che mantenga la distinzione non l'uguaglianza come reduxio ad unum che è la distruzione del singolo Piercrodo non era un lettore di Dante però se ci pensate un po' è esattamente l'idea del paradiso di Dante ogni figura mantiene la sua distinzione la sua differenza ma si sentono tutti uguali è un'idea religiosa quella di una comunità di singoli stretti insieme dall'uguaglianza capite il paradosso dei singoli uguali che si sentono uguali che sono uguali ma cosa c'è a che fare con la politica questo? cosa c'è a che fare con il mondo politico questo? non è affatto un'idea politica non è affatto un'idea che possa essere declinata in termini mondani e allora il pericolo appunto religioscivili voi spacciate un'idea religiosa una fondamentale idea religiosa che si proietta addirittura escatologicamente appunto il paradiso strumentalizzate una formidabile idea religiosa a scopi politici mondani simi a dei di qui sopra ma questa tendenza a afferrare idee che hanno un contenuto religioso a secolarizzarle come strumenti di lotta e di affermazione politica è per Kierkegaard una condizione generale della nostra epoca che deriva dall'irrompere nella nostra epoca quanto concretamente poi Kierkegaard affronti queste questioni che io ritengo essenziali l'irrompere del quarto stato la grande esperienza che fanno tutti i post hegeliani Hegel ancora la intravede soltanto ma tutti anche Feuerbach poco ma poi tutti gli altri l'esperienza fondamentale umana oltre che politica civile filosofica eccetera è quella l'irrompere sulla scena sulla scena mondiale di una nuova classe di una nuova classe di una nuova plebe nuova plebe non la plebe romana una nuova plebe qual è la caratteristica di questa nuova classe di questa nuova plebe diciamo così per usare un termine che poi nel novecento viene ripreso delle masse no l'epoca delle masse in cui rompono sulla scena politica le masse qual è la caratteristica che le agita che le anima ricercano l'uguaglianza come impossibile dargliela umanamente mondanamente ma le masse sono mosse da questa idea da questa idea che non è realizzabile con mezzi mondani e allora come si fa cosa farà la politica chiamata a governare questa istanza fondamentale che muove le masse e ormai la politica deve confrontarsi con queste masse con questi nuovi soggetti deve confrontarsi con loro fare i conti governare significa governare masse masse che chiedono un'uguaglianza che la politica non può dare perché la politica dispone soltanto di mezzi e di strumenti mondani e allora come farà come farà esserci un governo come si farà a mettere in forma a contenere questa domanda che non è una domanda risolvibile con mezzi mondani bisognerà ricorrere esplicitamente a forme di religiosità bisognerà per governare queste masse che chiedono il mondanamente impossibile per governarle per contenerle ricorrere appunto a ideologie ideologie bisognerà governarle bisognerà che la politica si trasformi in una sorta di religiosità ovviamente religiosità che nulla ha a che fare con la religione del singolo che nulla a che fare con quella religione di cui Kierkegaard è portatore con quella religione che decide dal dal divenire storico mondano nulla sono forme di religiosità su rettizie necessarie non ideologia nel senso sovrastrutturale vago eccetera eccetera no no necessarie non c'è altro modo di governare le masse contemporanee se non con forme di religiosità cioè di pseudo religione di pseudo religione neanche religio civilis perché la religio civilis modello romano implica appunto una 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 politica che incarna in sé forme politiche che incarnano a sé elementi di religiosità forti strutturati un culto eccetera eccetera culto riti no la politica dovrà ricorrere a forme di religiosità ideologiche non di religiosità che sono il prodotto di tradizioni di storie di costumi come nel caso della religio civilis accaparrarsi forme di religiosità generica perché altrimenti non si riesce a tenere in forma a contenere l'evo la nostra epoca si giungerà addirittura ad agitare bisogni di eternità dice Kirchhoff non è escluso che si affermeranno forme di religiosità politica che agiteranno addirittura bisogni di eternità ecco io politico ti prometto l'eterno ecco io politico ti prometto appunto regimi millenari sempre di più dice Kirchhoff nel contemporaneo questo bisogno aumenterà più forte sarà la domanda di uguaglianza che non è soddisfacibile con mezzi mondani più forte le forme di governo ricorreranno a queste forme anticristiche di religiosità e potranno avere grande forza potranno vincere dice Kirchhoff potranno vincere perché Kirchhoff non dimentica mai appunto anche l'Apocalisse che Lutero amava pochissimo anzi se avesse potuto l'avrebbe tirata via dal canone ma Kirchhoff no vede vede una profezia anche in quella storia no? in quella storia che si conclude tragicamente per noi no? perché non le forze dell'anticristo vincono nella storia mondanamente e soltanto dopo la loro vittoria vengono vengono bruciate dalla bocca del Signore nel giorno del giudizio queste queste riflessioni di Kirchhoff secondo me sono di stupefacente interesse perché ci permettono alcune cose e concludo la prima evidenziare come quelle categorie da cui siamo partiti l'ora il singolo eccetera non siano affatto una discussione che possiamo mantenere contenere soltanto nella dimensione teologico filosofica sono secondo me categorie fondamentali ed è il nostro stesso essere politico cioè singolo il singolo e l'ora che il singolo può incontrare l'ora in cui può imbattersi e che decide della sua vita è qualcosa che dobbiamo tenere aperto tenere aperto non può essere compreso e sussunto in nessuna istituzione di nessun genere la singolarità del singolo è un'idea preziosissima fondamentale comunque la si declini comunque la si declini e quindi nessuna etica nessun stato nessun stato etico nessuna pretesa appunto di sintesi di accordo può contenere in sé comprendere in sé risolvere in sé il singolo è l'estremizzazione se volete in Kierkegaard ma preziosissima di un'idea profondamente cristiana di persona di persona che non significa affatto questa singolarità evadere dal campo etico no perché come abbiamo visto per chi ha preso la decisione ha assunto la decisione tutto viene ritornato ma viene ritornato secondo una forma e una figura che è altrettanto fondamentale considerare perché viene ritornato non come un suo possesso quello non possiede più nulla ha perso perfino il figlio non solo l'ha perso l'ha ucciso non ha più nulla tutto ciò che avrà non è suo non è un suo possesso gli ha rimessi tutti i suoi averi e mantenere aperta questa prospettiva è possibile soltanto se tiene aperta l'idea del singolo e della sua ora e tutto ciò secondo me è fondamentale assumere per mantenere un punto di vista critico nei confronti di che cosa ma di ogni forma di religiosità politica sia nei suoi momenti più alti no la promessa di uguaglianza eccetera eccetera nei suoi momenti più alti più nobili apparentemente a quelli più miserabili delle promesse delle chiacchiere è infinita è infinita la gamma che può assumere il tema della religiosità politica infinita la gamma per governare le masse e quindi avere potere su di loro infinita la gamma della religiosità politica dalle grandi promesse dalle grandi ideologie diciamo meglio dalle tragiche grandi ideologie alle miserie ma sempre sono dalle grandi ideologie dalle grandi mitologie dal mito politico alla alla chiacchiera per far sopravvivere questo quel ceto politico sono infinite ma sempre la categoria di Chierkod è preziosissima si tratta di forme spuglie di religiosità si tratta di forme cioè si tratta di religiosità politiche un pasticcio immondo la religio civili aveva una sua forma e una sua dimensione ma le religiosità politiche contemporanee dell'epoca contemporanea sono pasticci immondi e chi è che deve portare la spada e tagliare questi pasticci il singolo ogni singolo soltanto dal punto di vista del singolo si tagliano questi pasticci immondi e si fa chiarezza e si fa chiarezza la politica nella sua dimensione meramente mondana che non può pretendere nulla sul singolo è il singolo non il singolo che si astrae che vola via no il singolo a cui tutto viene restituito ma a quel punto ciò che gli viene restituito gli viene restituito e non è più suo è di colui che glielo ha restituito grazie a tutti 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 Bene, grazie professore per le sue parole, se ci sono delle domande, non avete capito nulla, ma il professore non ve lo rispiegherà. Grazie per questa formidabile indagine sulla cultura. Dell'ottocento e del novecento che in qualche modo ci fa capire quanto sia importante per noi capire cosa abbiamo ereditato senza rendercene conto. Allora, due domande. Uno, io volevo chiedere se nella letteratura di Kikrood che lei ha fatto esiste il concetto di post-ideologia, cioè se si analizza cosa avviene nel cervello delle persone che hanno sperimentato delle ditature che poi decadendo lasciano nella mente le tracce della ditatura medesima. E la seconda domanda è invece proiettata al futuro. In questa esperienza bellissima del Festival delle Religioni, sotto ogni intervento, soprattutto quelli più belli per me, è come se ci fosse un grido, come si fa a ritornare cristiani con fede. Allora, questo bisogno, secondo lei che è un laico di formazione come la mia, ma ha indagato questo aspetto della religiosità e della religione, come fa una persona contemporanea, uno di noi, che sente il bisogno della fede, ma se lo chiede tutti i giorni, ma io veramente ce l'ho la fede o no? Questo interrogarsi della fede, che è un'urgenza per quello che ci è stato detto, io ce l'ho o non ce l'ho? Lei se l'è chiesto o se lo chiede? E siccome è una persona anticonformista e intelligente, io lo chiedo a lei molto umbilmente. Grazie. Buonasera. La mia domanda è la seguente. In quella uguaglianza tra distinti, il monachesimo può essere visto come una soluzione politica di una cittadella di Dio, in cui l'utopia si rende realtà e quella dimensione religiosa dell'uguaglianza si fa piccola società. Ecco, grazie. Intanto cominciamo. Grazie. Solo una domanda brevissima, una riminescenza che mi viene in mente. Kierkegaard come padre dell'esistenzialismo? Volevo una conferma di questo. Grazie. Post-ideologie, ideologie. Dal punto di vista di Kierkegaard, l'elemento ideologico è inseparabilmente connesso al politico moderno. Il politico moderno non ne potrà mai fare a meno. perché avrà sempre bisogno di, in qualche modo, di rappresentarsi religiosamente. Non ha altro modo di governare le masse. Quindi, di nuovo, la responsabilità è quella del singolo. Il singolo è chiamato a opporsi a questo. Il singolo deve essere singolo anche nella misura in cui si oppone a ciò che è un necessario aspetto del politico contemporaneo. Kierkegaard non fornisce alcuna ricetta di come fare politica. Dice, Balla, se fai politica, in qualche modo un grande politologo e scienziato della politica e della società come Max Weber non dice cose molto diverse. Dice, vuoi fare politica, e beh, sappi che avrai a che fare col male. D'altra parte la filosofia politica, diciamo, orientata dal cristianesimo, questa visione realistica l'ha sempre avuta. Machiavelli e Pascal, come un libro recente di Ginzburg ci ha invitato a leggere. Machiavelli e Pascal, non è così. E poi l'uno e l'altro da Agostino. La città dell'uomo. Però nella città dell'uomo c'è anche la città di Dio. Sono perplexe e permixte. Non sono due, una qua e una là. La stessa città è città dell'uomo e città di Dio. E quelli che dicono, pensano, si sentono di appartenere alla città di Dio, devono essere in confidio con la città dell'uomo, se no cosa stanno a fare? Quel tale ha detto che portava la spada, mi ricordo. Cioè che era segno di contraddizione. Se non è segno di contraddizione, cosa è venuto a fare? E questo è un discorso che non riguarda il cristiano come credente, riguarda questa civiltà che è certamente segnata dal cristianesimo. Dopodiché Kierkegaard dice, sì ma la cristianità, se l'è magnato il cristianesimo, sarà vero, non sarà vero? Certo, Kierkegaard, ma lui stesso testimonia che non è così. che il cristianesimo c'è ancora, magari malgrado la cristianità. E c'è Pascal, e c'è San Francesco, e c'è i Santi. E questo è un discorso che fa un credente, fa uno che cerca di capire il mondo in cui vive, la storia di questo mondo, le culture, le filosofie, le teologie di questo mondo. La fede caratteristica cristiana è una fede che si interroga, lo si sa. A partire dal passo del Vangelo, credo e aiuta la mia incredulità. Allora, credi o sei incredulo? Credo, aiuta la mia incredulità. È un passo carissimo al mio maestro in teologia, il Cardinale Martini. Discutavamo continuamente. Aiuta la mia incredulità, certo. La fede cristiana può essere tutta forché mera obbedienza. Grande civiltà all'Islam. Ma lì il credente si dice obbediente. Muslim vuol dire l'obbediente. Per i cristiani una fede obbediente è semplicemente una fede negligente. Perché il cristiano interroga ciò in cui crede. E per forza lo fa, perché Cristo dice chi sono io? E ti invita a interrogarti. E da lì nasce tutta, non solo la teoria, ma la filosofia anche, sapete, di questa Europa segnata dall'esperienza cristiana. Quindi ci sono alcune cose in cui credenti e non credenti devono ritrovarsi per forza se vogliono pensare la loro epoca e la loro civiltà. Come si fa ad essere cristiani? Non si fa niente. Cioè appunto, se quel discorso che ho detto ha un senso vuol dire che appunto occorre una grazia. Non c'è dubbio alcuno. Non è per tua potenza. Non è per la tua potenza, per la potenza del tuo ragionamento, del tuo discorso, che ti fai cristiano. Che diventi cristiano. Non si diventa cristiano. Il monarchesimo si intendeva proprio così. Cioè il claustrum, il convento, è esattamente immagine, prefigurazione terrena di quella situazione. Di quella situazione dove si realizza appunto un'uguaglianza che non è indistinzione, che non è riduzio ad unum. Rimangono anche gerarchie, come nel paradiso di Dante. Non sono tutte gerarchie, ci sono tanti cieli, gerarchicamente ordinati. Tanto è vero che Dante si stupisce e a un certo punto dice ma scusa un momento, com'è che stai così in basso, magari non ti senti un po' male di essere così in basso. Non esiste invidia. Non esiste invidia, non esiste gelosia. Non esistono nessuna di quelle miserabili passioni di cui siamo afflitti dalla mattina alla sera. Invidia, gelosia, avarizia, gola, eccetera, eccetera. Passioni tristi, odio, passioni tristi, tristi non nel senso che sono tristi, che ti fanno essere triste. Ti fanno essere triste. Chi è lieto? Il monaco è lieto. Infatti cosa era la prima regola francescana? Non siate mai nebulosi. Non siate mai nebulosi. Dovete presentarvi a tutti ilari, ilari, gioiosi. Perché se predicate nebulosi il Vangelo, ma non avete neanche capito il significato del termine Vangelo? Come fate a predicare tristi una novella lieta? Quindi chi non è afflitto da queste passioni che generano tristezza è lieto. C'è bisogno di essere credenti per saperlo. No, io non sono credente, ma l'ho letto in Spinoza. E' evidente che le passioni tristi ti fanno essere triste. L'odio, l'avarizzo ti fa essere triste. Ed è evidente che se tu invece ami, ma non appunto come si amano le anime del paradiso, o come forse si amano appunto i monaci, o come forse si amano i cristiani, non lo so, sei lieto. Sei lieto. Cos'era l'ultima domanda, non ricordo? Eh? Ah, l'esistenzialismo. Ma no, non c'entra assolutamente nulla. L'esistenzialismo è un assoluto tradimento del discorso di Chierro. Ne riprende alcuni termini. Certo, l'esistenza del singolo emerge, la priorità dell'esistenza del singolo emerge rispetto al generale. L'esistenza si contrappona alle categorie generali, all'essere, eccetera. Ma non si vede quello che è il fine di tutto questo discorso di Chierro. Se ne strappola questa parte ancora puramente filosofica, se ne strappola la parte che riguarda, da un punto di vista filosofico, la polemica e la critica da Hegel, e si dimentica appunto perché il singolo, e dove emerge il singolo. Il singolo non emerge dappertutto. Non emerge per le strade di Saint-Germain-des-Prés o altro. Non emerge... Emerge quando il singolo ha la singolarità, quando è che appare, quando è che emerge, quando è che dico ecco il singolo. Emerge nel momento di angoscia che ti decide dall'estetico, dall'etico, che addirittura ti decide dal tuo figlio. Lì emerge il singolo. Se non è colto questo elemento specificatamente religioso dell'esperienza di Chierro, lo riduci a un fatterello filosofico, polemico, nei confronti del grandissimo Hegel. E alla fine ha ragione Hegel. Perché quel particolare che non diventa quella singolarità che si decide nello stato di eccezione, nei termini che ho detto, quella particolarità, ma certo che vede sussunta nell'universale, ma certo che è nient'altro che quel particolare che poi viene compreso nel concetto. Il Chierro diventa nient'altro che un momento specifico della fenomenologia dello spirito di Hegel. Il momento della coscienza infelice, il momento della coscienza dell'esistenza singola sottratta all'universale. Quindi l'esistenzialismo non ha assolutamente niente a che fare con Chierro, ma l'esistenzialismo non ha nulla a che fare neanche con la filosofia in genere contemporanea. Qual è il concetto più in Kierkegaard più caro, riprendendo Agostino? Ma sai, la comune matrice paulina poi si dispiega, non è che sia una cosa particolare o un'altra. La fonte di ispirazione sempre poi rimane fondamentalmente quella. Insomma, passaggi, grandiosi passaggi della lettera ai romani in cui è tutto prefigurato quello che Kierkegaard dirà come il salto nell'atto di fede. L'ultima domanda perché poi dobbiamo chiudere. No, va bene. Due domande. Abbiamo una messa. Intanto, grazie. Dunque, la mia domanda è questa. Quando dico persona dico relazione. Quando dico singolo mi pare che dica individuo. ecco, mi pare che tra due parole ci sia due concetti ci sia tensione. È vero? Vediamo l'altro. La mia è una domanda molto banale ma forse si collega un pochino a quella di Marco che mi ha preceduto Marco Beconcini. filosoficamente parlando che rapporto c'è tra l'altro e il singolo? In termini anche di rapporto dell'uomo e della specie nei confronti delle altre specie del pianeta soprattutto in un'epoca come questa. non so se ho capito bene la seconda domanda comunque la prima è importante per chiarire la cosa. Sì, persona vuol dire per sé quindi c'ha l'elemento della singolarità non c'è dubbio per sé la rivendicazione della singolarità della unicità dell'esperienza di ciascuno e la relazione ad allium e la relazione questo è un concetto che il cristianesimo una figura che il cristianesimo riprende anche dalla filosofia classica c'è un'etica come dire cristiana che rielabora nel termine persona elementi fondamentali della filosofia classica quando Aristotele nell'etica dice che nella grande etica afferma che l'uomo giusto è quello che si rivolge e cerca proseteron il bene dell'altro si rivolge all'altro l'uomo giusto è quello che si rivolge all'altro e che cerca e che vuole e persegue il bene dell'altro quindi nel termine persona c'è il per sé e c'è l'addallium nel singolo c'è l'individuo no? non è l'individuo il singolo perché il singolo è colui che si pone nelle condizioni che si trova nelle condizioni di essere per l'altro per l'eccellenza perché il singolo è la condizione per cui tu non per tua forza ma la condizione in cui tu entri in rapporto con l'altro per eccellenza con l'altro assoluto quindi non è l'individuo non è l'individuo colui che si sottrae la relazione ma la condizione del singolo è colui che si apre alla relazione con la maiuscola alla relazione assoluta e in base a questa relazione con l'altro assoluto tutto gli viene restituito e cioè entra di nuovo in rapporto anche con tutta la dimensione del finito e dell'etica quindi quindi non vi è contraddizione ma Chierro direbbe che è soltanto se io intendo la persona radicalmente come singolo che poi intendo la relazione e così come dice appunto esplicitamente quando afferma solo quando il singolo sarà consolidato contro tutto il generale avrà senso parlare di comunità perché fintanto che la comunità non è comunità di questi singoli di cui ho parlato ma è una comunità di individui che comunità è? Perché cosa faranno gli individui? Si combatteranno l'uno con l'altro in base ai propri individui e egoismi e che comunità è? che comune c'è? laddove siamo soltanto individui ma quando siamo persone nel senso radicale ritrovato nel termine stesso di singolo allora sarà costituita anche una vera comunità e qui ritorniamo al tema dell'uguaglianza di cui parlavo prima quindi non c'è contraddizione ritengo si indaghiamo e non c'è contraddizione neanche tra l'altro il singolo perché il singolo è esattamente colui che è giunto nelle condizioni di assumere quella chiamata nei termini appunto di un accordo e di un rapporto con l'assolutamente altro paradosso certo paradosso paradosso ma non è paradossale tutta l'esperienza cristiana chiederebbe non è un paradosso questo non è forse un paradosso l'incarnazione non è un paradosso in cui si mantiene l'infinita distanza ma quella infinita distanza è paradossalmente cioè al di là di ogni dialettica di ogni doxa di ogni opinione colmata dall'intervento divino grazie a tutti grazie a tutti